La moto ha qualcosa che non va. Non mi voglio rovinare la giornata, calma e sangue freddo. Adesso vado dal mio amico algerino Carimbo. Il mio ospite è in casa sua e questa notte starò lì, andiamo a mangiare qualcosa e domani mattina penserò alla moto. Siamo nel centro di Barcellona e adesso mi godo la città. Ciao! Tu devo cercare di ricordare dove l'ho parcheggiata la moto. C'è un garage a pagamento da queste parti. Eccolo qua. Ora vado a vedere la moto. Ok, la moto dei partiti grazie all'officina di Miguelli e adesso continuiamo il nostro viaggio. Ora la devo caricare. E' un casino ma la sfiga ogni tanto ci vuole, se no non è una vera avventura. Ma niente da fare. Sono di nuovo fermo in un vicolo di Barcellona. Proviamo a chiedere a quel ragazzo. Grazie all'amico, come ti chiami? Giuliano. Giuliano mi ha portato all'officina. Un paio d'ore ne siamo venuti al capo. L'amico Alexis ha fatto un ingiarmo qua e siamo pronti per ripartire. Sono le 15 e 36. Verso le 4 forse parto. La resta è contina. Grazie a tutti.